e benvenuti ragazzi e bentornati su sempre a vostra amica grande marca e oggi siamo di nuovo su Yu-Gi-Oh! 2 links terza stagione siamo sempre con la nostra versione global il nostro account principale pronti per questo nuovo video siamo nell'episodio numero 72 pronti per questo video carico di qualcosa che farà lasciando i miei capelli i miei baffi che devo farmeli domani sera ma va bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione di non so cosa no sto parlando così così a vanvera ieri ragazzi ho visto spider-man far from home venerdì oggi è sabato sto aggisando questo video di venerdì sì ho avuto una settimana un po' piena ho visto spider-man far from ci sarà la recensione oggi di thor ragnarok e spider-man far from aspettatevi qualche bella recensionina quindi ragazzi partiamo subito carichi al massimo per questo video allora oggi su la dimensione Yu-Gi-Oh! GX oltre che si avvicina piano piano il terzo anniversario di questo gioco allora ragazzi è apparsa questa alexis rods però più cacchiusa e cattiva un alexis rods incacchiata andiamo a fare un duello anche se vabbè l'ho battuta a livello 20 con autoduelle con Zain però va bene sto elevando potenziando livellando i miei personaggi di sia Yu-Gi-Oh! prima serie che Yu-Gi-Oh! GX li sto letteralmente livellando molto Zain adesso ieri è arrivato a livello 22 vorrei averlo a livello 45 prima del terzo anniversario quindi ok sperando che non perda subito come sembrerebbe infatti con due polimizzazioni e carte di cui ok va bene ottimo ottimo cioè non è che non voglio più usare Jaden e che lo voglio usare cioè guardate quasi uh ho una carta nuova ok mi piace cioè li sto rivelando anche tramite l'evento cioè questo qua quello questo welcome to duel academy academy ok qua andrei optare per a star phoenix perché quello che ho superato il primo stage con lui quindi facciamo anche lo stage 2 andiamo al suo deck al suo deck andiamo a mettergli l'abilità nuova chiamata del destino andiamo a vedere cos'è perché non l'ho vista ah mi metto una città oscura ok il deck si è leggermente un po da modificare non esci senza salvare esci salvandolo prima salviamo e poi cagliano è sabato ragazzi sono ancora stanco stamattina ho dormito come non so cosa ok vai indietro bravo vai qua andiamo a fare questa ultima battaglia contro chaz per superare il turno 1 2 torno 2 verrebbe esso livello 40 ovviamente riceviamo più monete e andiamo più in modo cazzoso quindi andiamo sì non sto a guardare gli obiettivi usagini e yuki per battere chaz non mi interessa ripeto voglio andare con i personaggi che hanno un livello molto molto basso cioè loro i personaggi che in pratica sono rimasti indietro com'è bello vedi drill dark ed evocare drill dark drill 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 dark drill dark drill dark drill dark drill dark aiuto ok vedere che l'ora del destino ha delle belle combo non dico di no rimango sempre apprezzato a errore mentale ovvio franche l'ora del destino non è male come deck non è affatto malino molto buono perfetto ho appena perso oh che palle livellare sia una cosa buona ma allo stesso tempo non lo è allo stesso tempo non lo è perfetto oggetto di supporto non ne ho l'ora dell'evento di setorius è andato via come un lampo vediamo se riesco a prendere uno scambio non riesco a prendere un cacchio di loro andiamo qua ok che non ho molti gioie lx di 98 ok ci sono i bimbi i mostri crisalide sono fantasie di già tutti in pratica essendo n c'è anche electrum che ho già però c'è questo qua che è strafigo il sole della supremazia come mostro come artwork è bellissimo è un bel mostro devo vedere l'effetto non ho molta idea di leggerlo adesso però sembra buono abbiamo già muscoli abbiamo carte che ho già buono allora ragazzi fa caldo fa caldo e sono stanco aiuto 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 precisamente ho iniziato a fare questo video non sapendo cosa potessi fare sì il mio obiettivo era qualcosa ma di questo periodo stanno uscendo eventi ripetuti nessun evento nuovo ogni cosa ripetuta spacchettamenti ormai o porti qua o porto quello o porto quello ma hanno sempre spacchettamenti poi le gemme mi finiscono ho qualche ribosfera con un coupon però preferirei andare più avanti facendo i più punti possibili lo libero si libera da solo in pratica qua yugioh 5 dis idem non c'è un benamotifico secco né eventi sono già finiti gli eventi ehm ultimamente che è stato appunto è stato di del predestinato oscuro kalin devo modificargli il deck andiamo a modificare insieme però non so come questo video possa essere bello facendo solamente questa cosa cioè vabbè comunque andiamo a prendere il principal mostro ok apriamo tutte le carte demone eterno demone eterno demone eterno ok passiamo all'angolo mostri che sono patriarca con le otto demone eterno bestia demone eterno bestia demone eterno mettiamole tutte e tre con solo queste mettiamo anche cavaliere demone eterno e boh ecco i miei mostri di questo deck abbiamo le carte magie le carte trappole e va bene ok mostri andiamo a fare in questa maniera scrivendo solo demone oh c'è anche arci demone però arci demone occhi rossi nel fulmine però è del deck occhi rossi e non mi andrebbe tanto di metterlo oh vabbè arci demone lo metto anche nel deck di jack atlas qua si potrebbe fare sia un deck demone ma un po' particolare essendo che di tuner ne ho demone ma non penso che siano utili da mettere potrei mettere questo rituale il mostro rituale specchio bestia demone qualcosa specchio del demone bestiale ecco si potrebbe mettere questa carta ovviamente con la console a carta magia rituale che metterò dopo mettere anche desse demone selvaggio due copie ce le metterei perchè comunque è un buon mostro molto forte devo dire Getsu Fuma quando si fornge il posto di tipo demon e zombie non so se lo gioca il mostro della fine ok però quando combatte non quando è in squadra cioè è in compagnia ecco possiamo mettere anche magari due demoni elementali Non sono solo due però possiamo metterli Non farebbero male Poi anche magari un altro des Quindi spiacerebbe Poi magari ci possiamo mettere anche un demone minore Anche un demone minore ce lo possiamo mettere Possiamo metterci demone Potrei metterci Non saprei Potrei metterci un arci d'amone folle Ho visto tre coppie Mi mancano di qualunque carta O anche tre carte differenti Potrei mettere anche tre arci d'amone folle Che comunque come mostro è figo Mi piace Adesso passiamo alle magie Che sono queste tre Che sono Tre ovviamente Poi anche la carta magia Rituale specchio bestiale Altre due Diciamo altre due Potrei mettere Gli ami Ascia di distruzione Che non sono male come carta Le trappole invece Ci si può mettere ovviamente le carte demone eterno Anche queste tre Anche queste tre Mano fantasma Andiamo un attimo nell'extra deck E infatti del demone ho solo questo Sincro Cioè fusione Ho solo questa carta Ehm Mostri demone Sincro Non ne ho Perché c'ho solo fusione Che gran peccato E allora Aspetterò di trovare qualche sincro demone E poi mettercelo Anche se tipo lui Però è un mostro rettile Che palle Lei Un mostro lucido Un mostro scurità Fusione No Nelle trappole E ci andiamo a mettere Qualche carta Che magari Pari il culetto Come Come Oh Cyber Sembra Ombra Gardena Che È un buon Paraculetto Andiamoci a mettere Anche 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 Questo Un Rispecchia palude Che non è Male come Carte Buona E Ho solo indecito Tra un tornado Un buco trappola chiusa Io però andrei Con un buco trappola chiusa E per adesso Potremmo tenerci Questo deck Gli accessori Ovviamente Sono tutti In tema Demoniaco Vediamo se Ho delle bussine Demoniache Oltre a Jubel Ma Ok No C'ho le sue Ottimo C'ho le sue Vediamo se c'ho anche Il tappetino Che non Penso Cioè Penso ma non Penso Infatti Non ce l'ho Ho quello di Turbo Duelli Però Non è che Mi vada Tanto di Metterli Andiamo Classico Andiamo col viola Che è il classico Come chiamo io Tappetino da demone Viola Semplice Questo Il deck Lo chiamiamo Ovviamente Deck Demone Eterno Demone eterno Immortale Terrestre Immortale Immortale Ok Immorta Porco Due Giustamente Immorta Demone eterno Demone eterno Terrestre 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 Por Cazzozza E Deck Demone eterno Finale Boe Finale Finale In qualche modo Metto sempre Sempre Finale A molti Deck Metto sempre La parola Finale Potrei Modificarlo Più avanti In un altro Modo Andiamo a Provarlo Contro Questo tipo Qua Voglio provarlo Autoduello Ovviamente Autoduello Perché Non è vero Tanto Sti duellanti Fanno Sì Schifo Ma Anche Alcuni Sono Buoni Però Fanno Sempre Lo stesso Schifo Scusatemi Ragazzi Se vi do La mia Scella Ma Dottagli Perché Devo Mettere Qua A posto Dottagli Cose Allora Subito Ci parte Con Ok Le bustine Però Ci stanno Sono Ok È un mosso Rituale Questo Può andare Infatti Ho fatto Bene A metterle Più meno La metto In ogni Demone Che ho Più meno Più meno Ma Che non è male Con il nostro Le bustine Però Sono stra Fighe Ci stanno Un sacco Mi piacciono Buono Cioè Gioca Con Un Figo La posa Di vittoria Voglio La posa Di Perdo L'ho Già Visto Un sacco Di Vole Ok Livello Due Vabbè Perdita Di memoria Non è Un Mucoso Memoria Agnientatore Di Memoria Non è Un bellissimo Mostro Per questo Deck Mi Da Il Nano Nano Demone Eterno E Sì Vorrei Appunto Portarlo Più Avanti Per Dargli La Possibilità Di Avere Ovviamente Il Mostro Syncro Drago Dei Cento Occhi Se non Vado Errato Non mi dispiacerebbe Perché Con questo deck Ci sta bene Neanche Però Voglio capire Come Evocare Immortale Terrestre Perché Non so Come si Evoca Tutto Ma Vabbè Comunque Ragazzi Vedete che Poi questo video Tutto Mi raccomando Ci mettete Poi C'è Nessù Commentate Iscrivete Se non l'ho Fatto Noi ci vediamo Domani Ci vediamo Con Con Un prossimo Video Quindi Pica Pica A Tutti Yuppie Pica